per quanto riguarda le macchine nel fumo basso avrei voluto registrare un video ben fatto invece non ce l'ho fatta non resistito ho acceso la bright e che appena arrivata in reception anni in audiolucistore ed ecco il risultato si tratta di una nuova generazione di macchine più basta aggiungere dell'acqua nell'apposito vano un pochino di liquido del fumo nel spiccolo serbatoio niente ghiaccio secco niente altro se non una spresa di corrente un bottone e vola la macchina comincia a vomitare una quantità industriale di fumo basso purtroppo non ho chiuso bene il coperchio e si vede uno sbuffo di fumo che esce verso l'alto ma non vi sfuggirà la quantità di fumo che invade la nostra reception e copre di una coltre tutto il pavimento rimanendo molto basso ecco l'ancora in azione e la trovate sul nostro sito www.audiolucistore nella sezione macchine fumo e anche nella sezione effetti speciali a presto grazie a tutti grazie a tutti